Ciao, sicuramente avrai visto il film e quindi ti chiediamo di partecipare a un contest molto bello, interessante. Praticamente, cerco di essere chiaro. Hai visto il film e sicuramente ti avrà ispirato questo film, ti avrà suscitato e rimosso forse delle due storie personali, la tua storia personali, l'unico di noi è una grande storia e tu sicuramente ne avrai una da raccontare. Lasciati prendere da questo film, lasciati ispirare, come dicevamo prima, e scrivi una tua storia. Cosa deve raccontare questa storia per partecipare al contest? Devi cercare di ricordare nella tua storia di ragazzo o di bambino o poi ragazzo un momento in cui c'è stato qualcuno che ti ha in qualche misura cambiato la vita, spero di positivo, ma se così non fosse, non ti perpugnare, raccontalo, raccontalo lo stesso. Questo è un contest che ti dà l'occasione di tirare fuori quello che forse non hai mai raccontato a nessuno. È un'occasione e lo farai con i tuoi amici, con la tua scuola, chiederai collaborazione a chi vuoi tu, a un amico, un parente, a un professore o una professoressa, al tuo vicino di banco, alla persona che hai sempre odiato, quella che hai sempre amato, a chi vuoi. E poi mandi tutto sul sito della 50 notturno, sul sito della 50 notturno, troverai il contest, quello che ti ho spiegato io ti ha scritto molto meglio, io sto cercando di convincerti, la mia è un'altra operazione. Va bene, quindi ti aspettiamo, lo vedremo tutti, lo vedrò io, sto in giuria, quindi io non giudico, cercherò di emozionarmi. Ciao.